è una composizione di Alessandro Manzoni. Sappiamo che Alessandro Manzoni, noi lo ricordiamo per la sua opera grandiosa che rimane ancora oggi un punto di riferimento nella letteratura italiana per i Promessi Sposi. Io penso che Manzoni ci dia anche una lezione come autore di liriche anche se non c'è dubbio che come punto di riferimento è il narratore il narratore del romanzo storico. Chissà, magari si potrà anche affrontare la lettura di Promessi Sposi anche se è una cosa abbastanza impegnativa. E leggerla anche in una prospettiva differente da quella esclusivamente scolastica nella giusta prospettiva dalla quale dovrebbe essere letto Manzoni e la sua opera. Proviamo però anche ad affrontare il Manzoni autore di liriche e incominciamo con questa, marzo 1821 che è un'ode fortemente patriottica come pure può essere vista in una prospettiva patriottica ma in una prospettiva dell'Eterno il 5 maggio come anche i cori degli Adelchi in qualche modo hanno questa valenza patriottica Forse questi pensieri non sono più in sintonia tanto in sintonia con la nostra sensibilità anche perché abbiamo dietro alle spalle una storia che forse ci insegna che la direzione, quella direzione patriottica non è stata forse la scelta migliore ha lasciato ancora oggi all'Italia una eredità difficile quell'unificazione forzata a tutti i costi sotto lo standardo dei Savoia il patriottismo oggi poi è sentito poco sono venuti assieme al patriottismo sono venuti in meno moltissimi ideali manca oggi un punto di riferimento manca una bussola mancano dei punti cardinali tutto sembra in qualche modo svanire e quei grandi principi che hanno alimentato le ideologie ma anche solo gli ideali perché l'ideologia ha sempre una valenza un po' negativa l'ideologia è chiusa è dittatrice manca di colloquio manca di dialogo ma anche quegli ideali che hanno alimentato gli uomini di questo secolo ci sembrano lontanissimi forse ci sembrano lontanissimi perché gli italiani non stanno dando un buon esempio di sé non lo danno i nostri politici ma molto spesso i popoli hanno i politici che si meritano troppo spesso gli italiani visti anche nelle varie trasmissioni televisive un po' a taglio scandalistico però veritiero non danno prova del proprio impegno civile vediamo chi si sottrae al lavoro pur avendolo vediamo chi non paga quel che dovrebbe pagare vediamo chi cerca di fregare in ogni modo le scadenze che dovrebbe invece rispettare vediamo tanti che sfuggono ai propri doveri e allora se manca questa voglia di essere cittadini di uno stato che non dovrebbe essere più uno stato stato è qualcosa di abbastanza astratto ma dovrebbe essere una nazione quella nazione che ha andate a vedere la mia riflessione su Hegel quell'unità di intenti unità di lingua unità di religione unità di spirito unità di tradizione unità di ideali un'unità di storia un'unità di cultura se mancano queste cose che sono cose di fondo che in tante altre nazioni invece sono rispettate gli Stati Uniti d'America sono molto più sensibili in questa prospettiva hanno questo senso di appartenenza se passiamo dagli Stati Uniti d'America andiamo al Giappone abbiamo lo stesso atteggiamento noi siamo invece diventati fiacchi questa nazione è diventata povera oggi è diventato multinazionale ma in senso negativo perché accogliere altre culture è un arricchimento oggi invece c'è proprio questo atteggiamento di paura perché ci sentiamo deboli debolissimi e temiamo le altre culture i romani che si sentivano forti non temevano le altre culture oggi noi ci sentiamo deboli quindi temiamo le altre culture ma perché ci sentiamo deboli ma perché abbiamo perso ideali perché abbiamo perso scopi comuni obiettivi comuni detta la cosa in questa prospettiva poi ha uno scopo ben preciso quello non tanto di criticare le condizioni di oggi perché allora bisognerebbe fare un altro tipo di lezione intraprendere un altro tipo di lezione e vedere un momentino il perché le cose stanno così quindi si dovrebbe fare una lezione in una prospettiva storica in una prospettiva etica morale filosofica teologica a noi interessa invece adesso entrare nei panni di questo poeta entrare nei panni di chi allora si definiva patriota e non pensare neppur lontanamente di vedere queste cose e di interpretarle con arroganza dalla nostra prospettiva come per dire ma guarda questo qua di che cosa un po' si illudeva allora quella gente ci credeva ci credeva e c'è stato ci fu chi ci ha lasciato le penne ha dato la sua vita e ha andato incontro alla prigione alla sofferenza io ho già affrontato in questo mio sito Foscolo Foscolo aveva avuto delle occasioni incredibili gli erano state offerte delle occasioni avrebbe potuto fare carriera rinuncia alla carriera rinuncia ad imporsi perché non vuole sottomettersi ad un governo straniero ebbene se noi riusciamo a vedere le cose in questa prospettiva allora riusciamo anche a entrare nella pelle di Manzoni e anche a conoscere un altro modo di intendere di vedere le cose notate che Manzoni in questa posizione politica aveva aveva sempre tenuto un ruolo di sofferenza perché lui era un cattolico convinto però era per l'unità d'Italia pensate che i promessi sposi vengono messi all'indice addirittura per diverso tempo al momento dell'unificazione diventa senatore fa stupire i cattolici tradizionali super tradizionali però d'altra parte era anche un liberale che non era completamente in disaccordo con le idee di Vincenzo Gioberti andate per vedere se vi interessa Vincenzo Gioberti e il suo pensiero in corrispondenza a quello di Mazzini che forse a mio avviso però è facile la sapienza del poi è troppo comoda quindi io non mi permetto di giudicare né Vincenzo Gioberti né i mazziniani che secondo me il pensiero di Vincenzo Gioberti era il più coerente quello meno sanguinario forse le cose si sarebbero sviluppate in modo più lento ma senza tutte quelle 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 terribili quei terribili scontri quelle guerre che hanno insanguinato la nostra penisola e che sono culminate poi con la prima guerra mondiale perché è vero che abbiamo tre guerre di indipendenza certamente ma poi è come ne avessimo una quarta e la quarta è stata la prima guerra mondiale e il macello che è avvenuto sui confini austriaci quel macello di cui veramente se ne poteva fare a meno quindi a volte il patriottismo è rischioso perché il patronismo poi diventa nazionalismo e il nazionalismo pone le nazioni una contro l'altra pone le razze una contro l'altra e diciamo con molta sincerità cristiani contro cristiani che si ammazzano come delle bestie è triste è triste ed è scandaloso italiani e austriaci oltretutto cattolici entrambi e il macello che hanno fatto nella guerra del 15-18 ci lascia veramente molto tristi e ci chiediamo veramente oggi riflettendo se il militarismo sia la soluzione migliore per i problemi di questo mondo detto questo possiamo affrontare questa composizione innanzitutto dobbiamo inquadrare le cose in una prospettiva storica perché ci sono tre date da ricordare una ce la ricorda l'introduzione Manzoni scrive all'illustre memoria di Teodoro Körner poeta e soldato della indipendenza germanica morto sul campo di Lipsia il giorno 18 ottobre del 1813 nome calo a tutti i popoli che combattono per difendere o per conquistare una patria allora il popolo tedesco viene visto come il popolo che che combatteva aveva combattuto contro il predominio napoleonico la libertà fraternità e la litte francese noi sappiamo in che modo era finita era finita con Napoleone abbiamo già visto Foscolo e abbiamo ricordato di Foscolo il trattato di Campoformio con Jacopo Ortis laddove Napoleone vende sostanzialmente Venezia l'Austria dove Napoleone il campione della libertà diventa imperatore come gli altri commerci e i popoli laddove Napoleone che ancora oggi è considerato un dio presso i francesi era venuto in Italia e ha portato via ricchezze incredibili quindi si è comportato peggio di un barbaro era dove i popoli europei si erano con Plipsi e poi con Waterloo si erano alleati contro il predominio napoleonico che era arrivato se vi ricordate a pretendere di occupare la Russia e lì venne a naufragare la potenza napoleonica perché poi a un certo punto quando c'è questa megalomania la megalomania si distrugge da se stessa e questo poeta Teodoro Körner aveva combattuto per la libertà germanica contro lo strapotere francese quindi già il marzo 1821 deve essere visto in una prospettiva internazionale in una prospettiva di nuovo non solo italiana ma supernazionale laddove i popoli hanno diritto alla loro libertà alla loro identità e un popolo non può mettersi a tiranneggiare su un altro popolo quindi le immagini di Teodoro Körner come immagine simbolo di libertà di nazione poi questa composizione avviene nel 2021 probabilmente quando ci furono i primi moti carbonari quando si pensava che Carlo Alberto potesse in qualche modo unirsi alla carboneria di allora e appoggiare i movimenti rivoluzionari contro l'Austria poi Carlo Alberto aveva semplicemente una reggenza viene richiamato dallo zio Carlo Felice e sarà proprio Carlo Alberto a guidare la repressione quel re Tentenna quel re Tentenna che sarà poi celebrato da Carducci Carducci nel Piemonte però Piemonte non l'ho mai non l'ho mai commentato sarebbe bella sarebbe bella questa poesia questa composizione che Carducci riproporla a noi il re Tentenna l'italiano Amleto l'italo Amleto lo definiva Carducci che non sapeva mai come fare se mettersi dalla parte dei patrioti oppure porsi dalla parte dei sovrani e quindi anche dalla parte dell'Austria nel 20 e 21 Manzoni compone questa ode però dopo la sconfitta la mette nel cassetto Manzoni a quanto pare non ebbe mai né l'intenzione non penso per viltà ma non divenne mai un operatore diretto finalizzata la sua opera per una rivoluzione armata anche se evidentemente si entusiasma nel momento in cui gli italiani si muovono e vanno in armi anche negli anni successivi non parteciperà mai direttamente ai movimenti armati anche perché ripeto l'ho detto già prima Manzoni simpatizzava per un'altra soluzione quella che poi venne a definirsi con Vincenzo Gioberti o una soluzione perlomeno federalista che avrebbe determinato un minore spargimento di sangue nel 48 prima guerra di indipendenza ricordiamo 48 e 59 noi di guerre di indipendenza ne dovremmo contare almeno 5 anche se ufficialmente ne vengono contate 3 perché c'è la 48 la 59 poi c'è solo la spedizione dei 1000 poi c'è la 67 quella che viene chiamata terza guerra di indipendenza e poi come ho detto c'è la prima guerra mondiale dove vengono recuperate Trettino e Friule per cui nel 48 quando però si arrivò alla sconfitta e Carlo Alberto dovette abdicare perché venne sconfitto dagli austriaci dopo le prime vittorie ecco arrivano da tutta Italia ad appoggiare Carlo Alberto i patriotti compreso i sovrani italiani anche se poi si ritirano fanno marci in mietra e lo stesso Manzoni tira fuori dal cassetto questa composizione e viene questa composizione pubblicata dunque è composta da tredici strofe ma probabilmente all'inizio erano solamente dodici l'ultima viene aggiunta nel 48 i versi sono decassillabi guardate che che razza di movimento danno i decassillabi che razza di sensazione soffermati sull'aria da sponda volti i guardi al varcato ticino tutti assorti nel nuovo destino certi ancora dell'antica virtù sembra una marcia sembra una marcia mi ricordo quando ero giovane e che nel mondo militare si diceva marmittoni cambiate quel passo non sapete che fate fracasso un due un due un due un due è proprio una marcia una marcia che ha la sua espressione in questo numero di sillabe ma che la cadenza si fa sentire ancora più forte in questo quarto verso in questo ottavo verso dove abbiamo un troncamento poi viene aiutata a questo ritmo da delle alliterazioni da delle assonanze da delle rime all'interno dello stesso verso come rima noi abbiamo una costante abb cc come vedete troncamento nell'ultimo quindi certi in cor dell'antica virtù abbiamo nove sillabe invece di dieci ma è ugualmente un decasillabo perché noi sappiamo che il decasillabo ha l'accento sulla nonna sillaba visto che è un troncamento però le sillabe sono più nove nella prima e solo nella prima strofa abbiamo a b b c a a viene ripreso nuovamente d d c poi in tutte le altre strofe vedremo che il quinto verso è variabile non riprende più la guardate un momento qui sotto lo si vede subito abbiamo di nuovo a b b e poi c con sotto però il quinto verso è di è a se stante giuro non fa più rima con destra mentre nella prima sponda faceva rima con onda ecco ecco questo come struttura metrica poi come al solito per le mie analisi testuali ricordatevi che dove c'è un tr c'è il troncamento cor c'è il troncamento dove c'è la ilunga c'è una jambemain spero che sappiate che cosa vuol dire jambemain e poi ci sono tanti tanti latinismi latinismi che sono entrati poi nel linguaggio dotto tipicamente nel linguaggio che noi definiamo poetico cominciamo la lettura soffermati sull'arida sponda volti i guardi al varcato ticino tutti assorti nel nuovo destino certi in cor dell'antica virtù angiurato non fia che quest'onda scorra più tra due rive straniere non fia loco dove sorgan barriere tra l'italia e l'italia mai più siamo nel 20 il ticino era il fiume che segnava il confine tra il piemonte e l'impero austriaco la lombardia manzoni immagina che questi patrioti abbiano superato il ticino la sponda arida perché sabbiosa che abbiano si siano guardati indietro e tutti consapevoli di essere gli autori di un destino nuovo per l'italia sicuri di avere nel cuore ancora la virtù di una tradizione antica hanno giurato che cosa hanno giurato quest'onda ossia il le acque del ticino non devono più scorrere tra due rive straniere le due rive appartengono entrambi all'italia e tra l'italia e l'italia quella che viene definita italia non ci devono essere più barriere che possano in qualche modo dividerla nuovo invece di nuovo monotongo al posto del u o abbiamo solamente la o monotongo anche qui invece di cuor cor con un troncamento poi abbiamo un una anafora dove lo troviamo qui non fia che quest'onda non fia l'occo poi onda onda è una parte di un tutto la parte di un fiume però perciò potrebbe essere intesa come sineddoche luogo è di nuovo un monotongo al posto di luogo abbiamo loco con una uscita chiaramente che ci avvicina al latino come fia qui abbiamo un altro troncamento e questa è Italia e l'Italia è una panalessi ripetuta due volte senza una posizione ben specifica voi sapete che ci sono molti modi per definire le ripetizioni se sono all'inizio sono anafole se sono le fine di un verso sono epifore avanti questo quando non c'è una posizione ben specifica come in questo caso la chiamiamo epanalessi l'han giurato altri forti a quel giuro rispondean da fraterne contrade affilando nell'ombra le spade che or levate scintillano nel sole già le destre hanno strette le destre già le sacre parole sono porte o compagni sul letto di morte o fratelli sul libero suolo dunque c'è una ripetizione hanno giurato l'han giurato e quindi abbiamo un'anafora l'han giurato di nuovo quindi l'han giurato e altri forti altri forti tipicamente latino altri uomini coraggiosi hanno risposto a quel giuramento da contrade contrade sono le vie le vie fraterne perché appartengono alla stessa nazione hanno affilato nell'ombra le spade è una metafora quindi si sono resi pronti alla partecipazione come se avessero affilato le spade nell'ombra che finalmente scintillano al sole non più nascoste e si sono incontrati le destre hanno stretto le destre già finalmente il giuramento sa di sacro e il giuramento si sintetizza in questo modo o moriremo sul nostro suolo sulla nostra Italia o finalmente fratelli potremmo vivere su in una nazione libera giuro ius iuris è un latinismo che entra giuro nel linguaggio poetico diventando un arcaismo qui abbiamo una giambe manga quel giuro rispondere dei fratelli e rispondevano il vocabolo sarebbe rispondevano quindi c'è un troncamento ma anche la caduta della labiale la caduta della v e diventa rispondean le contrade fraterne evidente che le contrade non sono fraterne fraterne sono i popoli per cui per vicinanza si predica di contrade la fraternità nella figura retorica che noi definiamo i pallaggi questo affilando nell'ombra le spalle potrebbe essere una metafora ma non è detto che lo sia or è di nuovo un troncamento sol di nuovo un troncamento le destre che stringono le destre è una e panalessi mentre notate io non le faccio notare tutte perché ce ne sono tantissime di alliterazioni notate destre str 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 r r già le destre hanno stretto le destre già le sacre parole sono porte questo senso che vuole dare il verso quasi come delle frecce che entrano nel cuore a sugellare questo giuramento e il giuramento è questo poi c'è una lunga frase una lunga frase che incomincia di qui e termina nell'altra della strofa successiva qui infatti non abbiamo proposizione principale chi non è un pronome interrogativo è un pronome misto relativo colui il quale chi potrà della gemina d'ora della bormida altanaro sposa del ticino e dell'orba selvosa scerne arlonde confuse nel po' chi chi stornargli alpe 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 il mare una darme di lingua d'altare di memorie di sangue e di cor notate se qualcuno segue le mie lezioni di latino la costruzione tipicamente latina qui abbiamo un is pronome dimostrativo l'abbiamo qui pronome relativo colui il quale prima la proposizione relativa poi la principale allora qui c'è una lunghissima perifrasi io non l'ho neanche scritta qui da lato ma è una perifrasi perché sostanzialmente vuol dire chi potrà distinguere le acque dei nostri fiumi che si versano nel Po ebbene quello potrà dividere l'Italia per dire per esprimere questo pensiero l'immagine diventa ampia e questo è un accorgimento retorico caratteristico dell'ode e caratteristico anche di quei tempi oggi la poesia dopo l'esperienza di Ungaretti diventa spesso frantumata diventa ermetica non ha più questi attributi però noi dobbiamo entrare nella prospettiva di allora altrimenti perdiamo la bellezza non possiamo misurare come ho già detto prima prima l'ho detto per motivi storici adesso lo sto dicendo per motivi proprio letterari metrici non possiamo giudicare col nostro metro un'opera che è stata prodotta 200 anni fa con un altro spirito noi dobbiamo entrare in questa prospettiva entrare nel cuore di Manzoni e non soltanto di Manzoni perché se questa è stata pubblicata e diventa la bandiera dei rivoluzionari vuol dire che anche il popolo anche la gente semplice come la borghesia sentiva queste parole come sue le faceva sue ed era diventata questa una composizione che simbolo simbolo per un nuovo futuro per l'Italia allora lui dice attenzione che qui ci sono molte anastrofi anche iperbati là dove io faccio la costruzione là c'è un anastrofe un iperbato l'iperbato è molto più complesso andate a vedere poi nella mia lezione sulle figure retoriche la differenza tra anastrofe e iperbato chi potrà scendere cioè dividere le acque anche questo acque come prima onde potrebbe essere una sinedoche le acque che si sono confuse nel Po delle due Dore Gemina Gemina è natilismo la Dore avalta e la Dore riparia io ho messo SX sono affluenti di sinistra del Po della Bormida Sposa Altanaro sono affluenti di destra Sposa Altanaro ci sono delle riminiscenze mitologiche del Ticino e della boschiva Orba Orba mi pare che sia un affluente della Bormida e questo l'abbiamo già tradotto poi riprende di nuovo quindi c'è questo chi chi sono anafore chi stornargli quindi anche qui discernere di nuovo le acque miste che sono mescolate del mella rapido e dell'olio anche questo affluente di destra chi notate che c'è scherner stornargli ritogliergli quindi di nuovo discernere i mille torrenti che si sono riversati nel fiume Po dalla foce dell'Adda ecco quello quell'uomo e solamente lui potrà ancora dividere scindere una un popolo che finalmente è risorto e lo potrà dividere in volghi spregiati volgus è tipicamente latino in popoli disprezzati non padroni cioè del proprio futuro e risospingere questa gente risospingerla all'indietro nel tempo degli anni e dei fati ai dolori prischi priscus e latino ai dolori passati un'agente invece che è tutta libera notate c'è qui un'antitesi una forte antitesi o serva tra l'alpe ed il mare quindi un'agente che ha un comune destino o libera tutta dal gioco straniero oppure dovrà essere serva dalle alpi ai mari perché questa gente ed è il senso del patriottismo che è una componente essenziale del romanticismo perché voi sapete che il romanticismo nutre sia la prospettiva della restaurazione della monarchia per diritto divino laddove ci si fa ci si rifà ad una tradizione antica che vuole vedere i troni così come sono voluti da dio e intoccabili dall'altra sempre lo stesso romanticismo contrariamente all'illuminismo che era cosmopolita vede delle entità con questo delle entità che devono vivere fraternamente non confondiamo patriottismo con nazionalismo e ogni entità nazionale ha una sua cultura ha una sua lingua ha una sua religione ha una sua tradizione ha un suo sangue ha un unico cuore per questo o tutti servi o tutti liberi con quel volto sfidato e dimesso con quel guardo atterrato ed incerto con che stassi un mendico sofferto per mercede nel suolo stranier star doveva in sua terra il lombardo l'altrui voglia la legge per lui il suo fatto un segreto d'altrui la sua parte servire e tacere la condizione della lombardia la condizione della lombardia era una condizione tipica perché era la stessa condizione del veneto condizione del trentino del friule condizione di tante altre nazioni scusate di tante altre staterelli italiane allora con quel abbiamo un anafora questo sfidato e dimesso due aggettivi atterrato di incerto due aggettivi quando due aggettivi o due sostantivi si possono trasformare in un sostantivo e un aggettivo no con quel con quel cuore umile con quel con quell'incertezza sfiduciata no abbiamo delle indiadi quindi il popolo lombardo e poi la spiegazione che viene dopo doveva stare nella sua terra sfidato senza fiducia senza speranza di un futuro migliore oppresso il volto e si presentava in questo modo lo sguardo atterrato di volto verso terra quindi umiliato incerto per il proprio futuro perché non sapeva che cosa mai avrebbe che cosa mai il fatto avrebbe stabilito per lui e stava come un mendico un poveraccio alla mercede straniera a casa sua mercedes tipicamente latino e notate c'è qui una antitesi no star doveva in sua terra come fosse un suolo straniero allora il lombardo doveva stare in sua terra l'altrui voglia era legge per lui la voglia degli altri diventava per lui legge anche questa è un'antitesi il suo fatto un segreto d'altrui il suo destino in mano agli altri il suo fatto suo diventa proprietà di qualcun altro altrui diventa di nuovo un'antitesi e qual era la sua condizione quella di servire e tacere però le cose a quanto pare sembrano cambiare o stranieri nel proprio retaggio torna Italia e il suo suolo riprende o stranieri strappate le tende da una terra che madre non vè non vedete che tutta si scote dal cenisio alla balza di scilla non sentite che infida vacilla sotto il peso dei barbari pie o stranieri si rivolge molto probabilmente ai tedeschi agli austriaci l'Italia torna nel proprio retaggio l'Italia torna a riprendersi la sua eredità riprende il suo suolo la sua terra o stranieri strappate le vostre tende le tende sono una metafora non è anche scritta qui ma si potrebbe anche scrivere sono l'immagine di una casa di una proprietà qui non è casa vostra strappate le vostre tende da una terra che non vi è madre non è madre a voi non è la vostra patria non vedete che si scuote tutta dalle Alpi qui rappresentato con Cenisio a Scille Cariddi alla Sicilia i mari estremi dell'estremo sud sono due sineddoche perché rappresentano una qualcosa di più vasto il Cenisio rappresenta tutta la catena delle Alpi non sentite che vacilla in fida in fido è tipicamente latino non non si cura no? sotto il peso dei piedi barbari barbari intesi come piedi stranieri ora anche i piedi non sono di per sé né barbari né italiani quindi il piede la possiamo o lo intendiamo questa figura retorica barbari pie unipallage per cui con barbari stranieri si intendono le persone il popolo straniero o un assineddo che è una parte per il tutto vedete voi io qui ho fatto delle costruzioni e mi pare di aver detto o straniero o stranieri non so se l'ho già detto è un'anafora no? di nuovo questo scote invece di scuote UO si trasforma in O quindi abbiamo un monotongo e e poi tutte le volte che ho fatto una costruzione là c'è un anastrofe no? o c'è un iperbato rivediamo un momentino all'inizio stranieri nel proprio retaggio torna in Italia e il suo suolo riprende quindi l'Italia o stranieri l'Italia torna nel proprio retaggio e riprende il suo suolo vedete qui che è proprio spezzato no? o stranieri strappate le tende da una terra che non vi è madre l'anafora si ripete o stranieri sui vostri standardi sta l'obrobrio d'un giuro tradito un giudizio da voi proferito ma compagna l'iniqua tenzò voi che a stormo gridaste in quei giorni Dio rigetta la forza straniera ogni gente sia libera e pera della spada l'iniqua ragione o stranieri un apostofe o stranieri o tedeschi no? sulle vostre sulle vostre bandiere sta l'obrobrio sta il disonore latino proprio disonore di un giuramento che voi avete tradito voi avete espresso un giudizio a quei tempi stiamo parlando di Lipsia di Waterloo no? ritorniamo al poeta cui è dedicato questa questa composizione un giudizio un giuramento che a voi avete proferito allora adesso lo avete tradito questo giuramento e vi accompagna a questa attenzione iniqua a questo confronto militare iniquus latino ingiusto vano voi che a stormo assieme avete gridato in quei giorni Dio rigetta la forza straniera avete messo in mezzo Dio ogni popolo deve essere libero e deve perire la ragione iniqua cioè la ragione della spada del più forte altrimenti ci troveremmo nella legge della foresta non più nella legge di uomini notate questo pera da pereat latinismo in pieno e e l'iniqua ragione della spada pera una nastrofe perisca se a terra ove oppressi gemeste preme i corpi dei vostri oppressori se la faccia d'estranei signori tanto amara vi parvi in quei dì chi va detto che sterile eterno seria il lutto dell'italegenti chi va detto che i nostri lamenti seria sordo quel dio che budì se la terra ove avete gemuto perché oppressi dai francesi dalle armi francese ora preme latinismo copre i corpi di coloro che vi hanno oppresso perché sono stati sconfitti se la presenza se la presenza facies latino di uomini e di potenti stranieri vi apparve allora tanto amara in quei giorni se la faccia di signori estranei apparve a voi tanto amare in quei dì un anastrofe chi va detto chi va detto anafora che anastrofe il lutto delle genti itale quindi la miseria del popolo italiano sarebbe stato per sempre sterile eterno quindi mai ascoltato e così sarebbe rimasto nei secoli chi vi ha detto che quel dio che vi ha ascoltato sarebbe stato sordo alle nostre preghiere anastrofe notate le alliterazioni vedete detto sterile eterno lutto itale detto così come qui la PR preme corpi oppressori oppressi e qui c'è un'altra componente del pensiero di Manzoni che ad esempio si differenzia sostanzialmente da quello di Foscolo le immagini non sono più mitologiche leggendo le composizioni di Foscolo ritornano ninfe divinità immagini dell'antica Grecia sappiamo invece che Manzoni aveva contestato questa prospettiva sostenendo che dopo due mila anni di Cristianesimo e con una Bibbia in mano noi possiamo presentare delle immagini più concrete non più delle immagini false ma che hanno anche una valenza legata alla nostra tradizione legata al nostro credo che conferma quello che aveva detto prima se noi ritorniamo un momentino indietro eccolo qui una d'armi di lingua d'altare religione di memorie di sangue di cuore senza bisogno secondo Manzoni di andare a ripescare immagini che sono di un'altra nazione e quindi di tutta altra pasta di tutta altra radice infatti subito dopo abbiamo un'immagine tratta dalla Bibbia dal libro dei giudici sì mi fermo solo per dire una cosa che è così poesia qui vedete che termina saria sordo quel dio che vudi sì quel dio la strofa precedente termina con quel dio la seconda la strofa successiva la riprende con quel dio abbiamo un'anadiplosi e adesso lo leggiamo più tranquillamente sì quel dio che nell'onda vermiglia chiuse il rio che inseguiva Israele quel che in pugno la maschia Giaele pose il maglio del colpo guidò quel che è padre di tutte le genti che non disse a Germano giammai va raccogli ove arato non hai spiega l'unie l'Italia ti do io ti parlo proprio di quel dio che poi è il vostro dio siete anche voi cristiani quel dio che chiuse il reo il cattivo gli egiziani che seguivano il popolo di Israele che inseguiva Israele e quindi qui abbiamo di nuovo un'interbato che io qui non ho scritto nell'onda vermiglia nel Mar Rosso anche qui onda è una sineddoche nelle acque del Mar Rosso quello che mise in mano alla coraggiosa Giaele il maglio il martello Malleus e qui abbiamo quindi un'anastrofe e guidò il colpo contro il generale nemico quello che è padre di tutti i popoli ecco che si di nuovo viene fuori il pensiero di una prospettiva provvidenziale notate che anche altri romantici hanno questa prospettiva Foscolo ce l'ha la prospettiva provvidenziale ma Zini pure soltanto che la loro religione è una religione laica non è una religione rivelata è quella ereditata in un certo senso dall'illuminismo quindi una visione deista e non teista sebbene nell'illuminismo non c'era la componente provvidenziale ma una visione tutta meccanicistica e sensistica qui invece abbiamo una visione provvidenziale come Dio padrone della storia che lascia liberi i popoli ma che a un certo punto interviene per ristabilire una situazione che non è giusta quel Dio che non disse mai al popolo tedesco va raccogli dove non hai arato spiega lunga lunghe lunghe ungues latino le unghie ti do l'Italia caro Italia notate dove dove una serie di lunghe anafori e poi si inizia con un apostrofe cara Italia dovunque dovunque il grido dolente della tua servitù lunga è uscito dove dove la speranza ogni speranza della del lignaggio umano non è ancora deserta quindi vedete che sto facendo delle costruzioni quindi siamo in piena anastrofe lignaggio vuol dire è una uscita latina linea deriva da linea poi francese lignage così come il servaggio che deriva dal servus latino che poi passa al francese nel servage allora quando per un momento Manzoni valuta la condizione dell'Italia non ha dubbia da fermare laddove si è fatto sentire si è fatta sentire la tua lunga servitù laddove la tua eredità l'eredità di un passato glorioso e la speranza legata a questa eredità non sia completamente disciolta laddove già la libertà è fiorita laddove sta maturando nel segreto laddove c'è la sofferenza di un'altra sventura ebbene ovunque non c'è un cuore che non batta per te allora a parte le anastrofe che mi pare di averle individuate dove ancora matura nel segreto dove un'altra sventura ha lacrime il cuore è un troncamento monotongo al posto di cuore di cuore insomma ovunque si può parlare di libertà laddove la libertà è nel segreto laddove è già fiorita laddove sta maturando laddove sventurata è ancora nel silenzio ma ogni qualvolta si pensa a te caritalia ebbene pensando alla tua servitù al tuo passato non c'è cuore che non sia con te quante volte sull'alpe spiasti l'apparire di un amico stendardo quante volte intendesti lo sguardo nei deserti del duplice mar ecco al fin dal tuo seno sboccati stretti intorno ai tuoi santi colori forti armati dei propri dolori i tuoi figli sono sorti a pugnare ma a me pareva che fosse sbocciati in ogni modo se sto sbagliando allora quante volte Italia notate spiasti c'è una dielesi altrimenti non avremmo le dieci silabe quindi questo i e a spi a sti a qui considerato tre silabe quante volte hai guardato dall'alto delle alpi cercando un amico stendardo un popolo amico stendardo è una metonimia no? un concreto un'immagine al posto di un popolo quanto quanto volte hai teso lo sguardo sopra i tuoi due mari il mare adriatico e il mare tirreno sperando che la libertà ti fosse portata da un altro popolo ecco alla fine sono sbocciati proprio dal tuo cuore dal tuo grembo e tutti strette intorno ai tuoi colori santi bianco rosso verde rosso il colore del sangue dei martiri bianco come le nevi delle alpi e verdi come le tue pianure forti virtuosi coraggiosi armati solo dei propri dolori i tuoi figli sono finalmente sorti per combattere abbiamo delle anastrofe ecco al fin sbocciati dal tuo stesso seno stretti intorno ai tuoi colori santi santi evidentemente non sono i colori ma gli ideali che rappresentano questi colori armati dei propri dolori evidentemente non sono i dolori che possono armare un soldato ma i dolori diventano una metafora e alla fine pugnar un latinismo con due troncamenti son e pugnar oggi o forti o forti sui volti valeni il furor delle menti segrete per l'Italia si pugna in cete il suo fatto sui brandi vi sta o risorta per voi la vedremo al convito dei popoli assise o più ser più vil più derisa sotto l'orda verga starà oggi o uomini coraggiosi il furore l'ira quell'ira sdegnosa che finalmente ha mosso non soltanto i cuori ma anche i brandi l'ira che è maturata secretamente nei cuori e sui volti i baleni si sono manifestati come espressione di quell'ira nascosta oggi si combatte per l'Italia pugna latinismo e ora di vincere il suo destino sta sui vostri brandi sulle vostre spade è un anastrofe è un francesismo brando ed è una metafora non è neanche scritta perché il suo destino sta sulle vostre geste sta sui vostri valori come se fossero rappresentati dalle vostre spade o rivedremo la nostra Italia risorta unita e seduta accanto ai rappresentanti degli altri popoli europei oppure se voi perderete la troveremo ancora più serva ancora più vile disprezzata ancora più derisa sotto la verga orrida starà sotto la verga orrida che cos'è la verga la verga è un latinismo vuol dire virga vuol dire bastone che qui rappresenta lo scettro e quindi lo scettro a sua volta è un concretismo un oggetto concreto che rappresenta l'autorità un'autorità straniera e sgradita quindi metonimi e metafora o giornate del nostro riscatto e questa è la strofa che probabilmente è stata aggiunta nel 48 o giornate del nostro riscatto o dolente per sempre colui che da lungi dal labbro d'altrui come un uomo straniero le udrà che i suoi figli narrandole un giorno dovrà dire sospirando io non c'era che la santa vitrice bandiera salutata in quel dì non avrà o giornate finalmente destinate a riscattare la nostra Italia e il nostro popolo o dolens dolentes tipicamente latino dolente per sempre quello che dovrà conoscere questi fatti da qualcun altro che le udrà da lunghe dal labbro d'altrui come un uomo straniero che ripete due volte che anche questa può essere un'anafora che narrandole raccontandolo un giorno ai propri figli dovrà dire sospirando io non ero presente che di nuovo quel dì non avrà potuto salutare lui direttamente in prima persona la bandiera santa santa e vittoriosa non avrà